Allora, tre minuti, saluto, chi è? Word. Spesso. Lo echan las mangiura. No, non lo so, si no. No, non lo so, si no. Lo so. Lo so. No, non lo so. Lo so. Cosa? guardate che poi i punti ve li danno pure la proiezione, le mobilizzazioni, i passaggi e i guardi a terra portiamo tronca e testa solo di punti vai cerca di essere andato ok finisce non dobbiamo fare due rand perchè è finito verso il tuo rand ok hai giocato un lancio? che brutta ok primo di categoria oh ok una volta che fai il film con Matteo bravo stiamo rompendo un po' ok quindi primo di girone tu andrai a fare il terzo e il quinto posto è un po' un po' è un po' è un po' è un po'